Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi finalmente il video tanto atteso O meglio per me il pacco tanto atteso Il pacco della NYX Lo stavo aspettando da tipo una settimana Ma questa settimana è sembrato tipo un anno per me Cioè i giorni non passavano Facciamo meno uno, meno due, meno tre Finalmente è arrivato Prima di aprire il pacco della NYX Voglio farvi vedere altri pacchi che ho ricevuto E ho accumulato tanti pacchetti per fare il video appunto Spacchettiamo E adesso finalmente spacchettiamo Iniziamo dai vestiti Allora Mi è arrivato questo pantaloncino Meraviglioso Vedete? È di jeans nero A alta vita Avanti agli strappi così E dietro è così A me piace tantissimo Anche perché qui a Giuliano non riuscivo mai a trovarlo nero Lo trovavo sempre solo di jeans celeste, bianco, nero Non ero proprio capace di trovarlo Anche se devo dire che adesso mi serve il bianco Non lo riesco a trovare Quindi E quindi niente Ce l'ho nero, dei jeans e tutti i testi Bianco mi manca ma non lo trovo Ho ricevuto anche questo strepitoso Completino Bellissimo Guardate qui È un pantaloncino Fatto a tutina Vedete? Pantaloncino che ha le due tasche Blu scuro con le righe bianche, rosse e blu Molto carino E sopra porta la maglia con il fondo bianco Ma i righini che richiamano il pantaloncino La maglia va tipo un poco 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 a pancia fuori Dovrebbe andare così Però secondo me io che sono bassa, bassina Mi va normale purtroppo Però è carinissima Vedete? È semplice Ma comunque è fresco Un po' di no fresco Che a tutti i momenti con questa è bellina sistemata Ma stai fresca Ok ragazzi Questi erano i vestiti Sto aspettando anche tanti altri pacchi Ma adesso arriviamo al pacco per me più importante Più bello Bellissimo Che non vedo l'ora di aprire Perché non l'ho aperto Vedete? È ancora sigillato da stamattina Quindi non vedevo l'ora di registrare questo video per vederlo Ma siccome sono stata incasinatissima E chi mi segue su Instagram lo sa perché ho fatto le storie Chi non mi segue vi invito a seguirmi così Restate aggiornati su ogni mia cosa Perché non sto facendo tanti video come prima Ma nonostante questo Comunque io cerco sempre di essere attiva E quindi apriamolo Pasta Ho aperto Allora Allora il pacco si presenta così Ecco qui si presenta così Vediamo questa cassa E già vedo dei rossetti meravigliosi Che belli Oddio io li amo Sono stupendi Veramente Io non vedevo l'ora Guardate qua Sono meravigliosi Che belli Devo farvi vedere Aspettate Dovete vedere bene le tonalità Questi qua Ce l'aveva Le ha acquistate una mia amica Appena le ho viste Subito Sono corsa sul sito della Nix E le ho acquistate anche io Perché mi sono innamorata Tadano Madonna Non ci posso credere che sono mesi Non so peggio Allora Inizio a farvi vedere Questa qua Che io amo Se si apre Straordinario Questa è la tonalità viola Che mi piace tantissimo Pensate con l'abbronzatura Come è meraviglioso Ma fateci caso a questi segni Questi sono i segni Che oggi Per fare una cotoletta di pollo Mi sono ustionata Proviamo anche questa Ovviamente Dovete vedere Tutte in tre Questo è tipo un grigio Sì Proviamo anche quest'altro qui E poi vi faccio vedere Tutte e due Insieme No Questo va nel celestino Bellissimo Adoro Io che devo fare Amo i rossetti Non ci posso fare niente Ma la bellezza Di bellezza Allora Quelli che io amo 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 E il viola E questo qua Tipo celestino E tipo un celeste Comunque Si presenta Che sembra un grigio Vendolo così Sembra tipo grigio Ai miei occhi Però Però in realtà E tipo un celestino Vedete Bellissimi Stupendi Poi sono pigmentatissimi Mamma mia Che meraviglia Sempre matt che bello Troppo 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 e quando dico troppo è troppo meravigliosa questa qui è la palette nyx beauty Praticamente questa palette si trasforma Cioè è tipo un beauty case Che si apre E vediamo cosa c'è Mamma mia come sono contenta Allora la palette si presenta così C'ha tutte queste tinte d'ombretto Vedete? Tutte bellissime Adesso ne proviamo uno per farvi vedere La pigmentazione Proviamo il viola Vedete? Sempre pigmentatissime Adesso provo il celeste Il verde Vedete? Pigmentatissime Vedete? Sono pigmentatissimi questi ombretti Bellissimi E ci sono comunque tantissime tonalità Dal marroncini I rosa, i viola, la fucca Insomma qualunque colore Ma adesso vi faccio vedere Perché l'ho acquistata La cosa che mi ha fatto innamorare è stata questa Tadam! Vedete? Così io la metto nella mia variglia Quando parto per le vacanze E c'ho tutto in una sola palette Tutti e dico tutti E dico tutti i bronzer I blush Ed i rossetti Vedete? Troppo troppo bello Questo blush è meraviglioso Anche i bronzer sono bellissimi E' bellissima Cioè è proprio Non lo so La vedo con classe Con stile Non lo so La vedo io con gli occhi dell'amore Poi c'è anche lo specchietto Vedete qui sopra? Che musica si specchia Ovviamente si vede gli occhi così Bella 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 Sono felicissima Io poi lo sapete Rapporto più con il trucco Ultimamente mi sto troppo attaccando Quindi sono felicissima Adesso voglio farvi vedere Tipo questo rosa Se è pigmentato Questo blush Pigmentato Vedete? Cioè il dito rosa Come lunga Questo qua scurissimo Vedete? Basta un tocco Strepitosa Questa palette Ne acquisterò Tante 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 altre Perché sono Soddisfattissima Bellissima Cioè guardate qua È elegante Così piccolina Che non è spaziosa Non è nemmeno Doppia Che dice se lo prende Di spessore No Assolutamente Comoda Troppo troppo comoda La amo La stramo La amo Bellissima Benvenuta amore Nella mamma A te però Non ti metterò Nella scatola Delle meraviglie Perché ti devo tenere Proprio pregiata Quindi la metterò Tipo per una menzoletta Solo per lei Poi ragazzi È un'ultima cosa Che ho acquistato Alla NYX Ed è questo Meraviglioso Primer Devo vedere però Se profuma O no Perché devo vedere Quindi lo provo Fortunatamente Non ha Allora io Odio troppo Quando per esempio Ho un primer O un fissante Hanno un odore Troppo 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 pesante Che dà fastidio Cioè perché Non è un profumo Poi dici tu ti metti Profumo Ok Però quando io lo devo mettere Sul viso Odio troppo le cose Profumate Mi piacciono le cose Soffici Cioè se devono tenere un profumo Lo devono tenere lieve Non troppo pesante E questo È uno di quelli Che io amo Quindi amo anche lui Amo tutto Della NYX E niente ragazzi Odio Sono troppo Troppo Innamorata Di questi rossetti Innamorata Della palette Innamorata Di tutto Di tutto Sono felice Sono felice Sono felice Che bello Questo è il pacco Più bello Che potevo mai ricevere Comunque Sono contenta Contentissima Penso che l'avete capito Dalla mia voce Da bambina Dovete sapere Che quando Io faccio la voce Della bambina Tipo che bello Che bello Sono felice Quindi adesso Avete potuto capire Che sono felicissima Non vedo l'ora Di provare Tutto Dalle tinte labbra Agli ombretti Non vedo l'ora Di inquacchiarmi La faccia Con tutti questi Nuovi acquisti Se volete un video Dove provo Tutti i prodotti Che ho acquistato Alla NYX Fatemelo sapere Qui sotto Nei commenti E io lo farò volentieri Perché sapete Che a me piace tantissimo Sperimentare Truccarmi Anche se sbaglio Comunque io mi diverto Mi piace E piano piano Imparerò Spero Ma comunque Io lo sapete Che quando faccio Video tutorial Non li faccio Per dire Si fa così O per correggervi Io lo faccio Giusto per farvi vedere I miei modi Poi sicuramente Sbaglierò Tutto O quasi tutto Ma comunque Ognuno ha i suoi metodi Ovviamente Un estetista Una make up artist Mi potrà correggere Guarda Non si fa così Oppure qualcuno Che ne sa più di me Ma io accetto Accetto Veramente Chi mi dice No si fa così Oppure mi da consigli Infatti Tantissime ragazze Che hanno commentato I miei video tutorial Correggendomi qualcosa Io ho apprezzato Il loro commento Infatti Ho anche seguito Il consiglio Che ognuno di loro Mi ha dato Quindi io vi apprezzo Se vi correggete Anzi vi invito A correggermi Se sbaglio qualcosa Perché comunque Si sa che nella vita Non si finisce mai Di imparare E io sto imparando Sto imparando E devo imparare Ancora tante cose E niente ragazzi Questo video Termina qui Se vi è piaciuto Lasciatemi un bel Pollice in su E fatemi sapere Nei commenti Se volete Il video Recensione Di tutti questi Trucchi Di Lanix Ma soprattutto Se vi piacciono I miei video Pacchettiamo Per farmi capire Se vi piacciono I miei video Spacchettiamo Lasciate un bel Like Se arriviamo A 2000 like Ci sarà Un altro video Di spacchettamento Perché comunque Io ricevo Tanti pacchi Alcune sono Collaborazioni E alcuni Acquisto io online Perché io acquisto Tantissimo online Perché mi sono sempre Trovata bene Quindi comunque Io unisco i pacchi E ve li faccio vedere Li apro con voi Mi diverto E mi piace soprattutto Vedere nei commenti Magari se qualcuno Ha qualcosa come me Oppure consigliare A voi tipo Queste tinte labbra Oppure tipo Il sito dove Acquisto i vestiti A me fa piacere Consigliarvi Comunque che Un sito sicuro E un sito dove Potete trovare cose Veramente belle A poco prezzo Oppure Qualcosa costa un po' In più Però comunque Sono cose buone A me fa piacere Consigliarvi Ma la cosa che voglio sapere È se a voi Piacciono questi video Ovviamente Perché a voi Devono piacere E basta ragazzi Me ne vado Me ne vado Sì Ho finito Ho detto tutto Sì ho detto tutto In questo video Mi avete visto In versione tipo Non so Semplice Semplice Perché sono stata Tutto il giorno Fuori casa A pulire lo studio Lava lava Pulisci 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 Sono andata a casa Non ho avuto nemmeno il tempo Di farmi una doccia Per registrare subito Questo video Infatti sto con il codino Che io odio Però che dovevo fare Dovevo aprire il pacco Della NYX E poi non potevo stare Ancora senza fare video Semplice semplice Di trucco Ho messo un po' di fondotinta Un po' di blush Un po' di rossetto E la matita A pulissimo Perché ero anche senza trucco E niente ragazzi Spero che apprezzate La mia volontà Che comunque Nonostante tutto Sto facendo sempre video Sto cercando sempre Di essere attiva Per voi Siamo arrivati a 37.000 iscritti Un altro traguardo Raggiunto per Saretta Grazie a tutte le 37.000 persone Che ci sono Che mi seguono Grazie infinite A chi mi segue dall'inizio A chi mi segue da poco Benvenuti nella mia big family Spero che i miei video vi piacciono E niente ragazzi Ci vediamo nel prossimo video A tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tutto un manuscrito